Un'improvvisata alla posizione news, Sveva, stiamo vedendo che stai tornando in gara, stai facendo delle cose bellissime, ti stiamo seguendo da sempre, come ti senti, come stai, innanzitutto come stai, come stai vivendo questo momento? Questo è un'acqua che ti piace a te, sono contenta di essere in grado e speriamo che andiamo a collegare prossimamente, sono contento. Prossimo obiettivo? Prossimo obiettivo per quest'anno, sono contenta di essere tornata, divertirci, voglio recuperare l'anno verso, quindi piano piano. L'obiettivo è divertirvi, vi stai divertendo, siamo tutti entusiasti, fai un saluto a noi di Positano News, che ti stiamo sempre vicino. Ciao a tutti e grazie, a te. Bocca al lupo, sai vai. Grazie.